ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale andiamo avanti con la nostra campagna su excom 2 war of the chosen e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultima live cioè dal mercato nero allora andrò a fare degli acquisti prendiamo delle leghe aliene visto che dovremo investire un bel po di riserve e materiali nelle nuove attrezzature e poi proviamo a fare sempre per lo stesso motivo un po di cassa vendendo un po di cose allora intanto archivi alieno viene pagato 126 riserve ne ho tre allora uno lo vendiamo sicuramente cadaver di spettro per adesso non mi interessa facciamoci fratonda con le leghe con i cristalli soldati vendiamo muton muton allora muton me ne tengo tre sectoide me li tengo berserker me li tengo bomba a gas ok cadaver di ufficiale lo vendiamo ci teniamo un andromedon per fare l'autopsia venom flashbang grisalidi teniamone una punto segnale l'erium proiettili meccato vento vendiamo plita dovrei fare le autopsie però intanto vendiamolo settopode pure cassa superiore ok va bene siamo arrivati a 245 riserve non male poi proviamo a prendere sti dati nuova rotta per l'avenger le ricerche continuano a dare ottimi risultati perfetto con l'autopsia nel re delle vibre sblocchiamo il progetto nel reparto sperimentale per ricavarne una nuova armatura pur avendo studiato approfonditamente i rapporti della dottoressa valen non ho ancora capito come abbia ottenuto le sue spaventose conoscenze sui processi di modifica e manipolazione del materiale genetico alie 5 giorni si facciamolo aggiungiamo il terzo slot per il potenziamento dei fucili di precisione avvio la ricerca immediatamente bene gli alieni hanno incredibili risultati allora mettiamo in lavorazione facciamo una cosa allora abbiamo un ingegnere libero mettiamo al reparto sperimentale sono pronti abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria comandante quando vuole possiamo costruire il giacca craniale e assegniamo il progetto per la produzione della tuta serpente ci mettiamo subito al lavoro comandante le farò sapere appena completiamo il progetto poi continuiamo a raccolta dei dati comandante alcuni dei nostri sono rimasti feriti durante l'ultima missione segreta ma dopo qualche giorno di riposo torneranno operativi ok adesso legame è possibile fra Nixamina e Yattatsu purtroppo quest'ultimo è rimasto ferito speriamo non ne abbia per molto ok abbiamo la possibilità di fare un'ultima missione per questo mese io direi di fare questo compito nella resistenza per cui potremo costruire granate sperimentali e armi pesanti in modo istantaneo quindi assegniamo allora Nick e Yattatsu possono fare legame quindi chi resta? restarebbe i dacci dobbiamo andare un'altra coppia ehm un gnozzellalo controlliamo un attimo le le dotazioni prima di mandare qualcuno se no mazzullo e Midori si mandiamo l'oro mi dò che signora gatta mi dò che signora gatta ok ok io questa la farei prendiamo uno slot in più quanto mi costa 100 riserve mh no non ho bonus mensili così importanti da farlo rifacciamo questo ok scende anche di un giorno non abbiamo dati per scongiurare il pericolo di soldato ferito purtroppo quindi dovremmo rischiare vabbè ordine ricevuto pronti a obbedire va bene eeeh vediamo un attimo qua ci serve emozione dei radio alieni ok destiniamo un ingegnere all'infermeria visto che c'è a tazzo ferito ho nemmeno visto quanto ne ha? cinque giorni ok andiamo avanti buono vinaural acquisisce un'altra 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 abilità eeeh facciamogli cominciare l'addestramento per squarcio del buono una delle abilità più potenti degli operatori psionici un messaggio per lei comandante lo invio ai suoi alloggi ok abbiamo chiuso il mesa guidare la resistenza non è facile 143 riserve i risultati che ha ottenuto ci fanno dubitare della sua storia tre scelti oh beh potete fare molto di più non riuscirete più a sfuggire all'ira degli anziani il loro giudizio è inappellabile e io sono il loro boia ok qua il quadro un po' dei degli eventi oscuri che ci attendono eeeh delle costruzioni della nuova struttura e delle rappresaglie abbiamo sei settimane va bene noi comunque dovremo fare in modo di abbassare il contatore nel progetto avatar il più possibile eeeh velocezza ricerca di armature vabbè restiamo così i fornimenti li prendiamo dopo prendiamo i dati risorsa strategica individuata ok vorrei arrivare a prendere la tuta serpente se è possibile scienziato un po' ci pensiamo prendiamo ok i dati li abbiamo fatti eeeh abbiamo 46 dati io non so se prendere torniamo al mercato nero nuova rutta per l'Avenger perchè col mese si rinnovano il mercato è aperto le offerte micrino laser superiore caricatoriche elettrosensibili condizionamento concentrazione e riserve potremmo prendere per 30 dati ste riserve no per adesso no invece vediamo cosa abbiamo l'abbiamo scienziato e le galiene prendiamo le riserve per rifornimento mensile anche se vorrei andare ad attaccare prima che scatti un'altra missione ok dura serpente fatta armadura serpente prendiamo buono buono e dacci alla grande abbiamo un nuovo granatiero alla grande vediamo il colore nero tipico di questa classe di soldati ok sì ok a posto a posto ok ok vediamo un attimo ok a posto a posto andiamo un attimo questo, ma per adesso no. Invece andiamo a prendere l'armatura serpente. Armatura regge e armatura serpente. Ok, il potenziamento delle due tute derivate dai cadaveri del boss alieni. Facciamoli entrambi. Ok, e a sto punto andiamo ad attaccare la struttura aliena dove c'è il terzo e ultimo boss alieno che è il re degli Arkon e andiamo a togliere questi tre blocchi dal contatore del progetto Avatar. Impostazione rotta per la zona indonesiana. Ok. Allora, Spark pronta al combattimento. Abbiamo fatto la Spark che in questo momento è al minimo sindacale come sviluppo, quindi per adesso non lo userò. Prima voglio chiudere il discorso con i boss alieni una volta per tutte con questa missione. Nella prossima atteccheremo invece lo Stregone per sconfiggerlo definitivamente. Prima di incontrare l'assassina che abbiamo attivato ma che ancora non abbiamo trovato sul nostro cammino. Allora, portiamo la squadra tipica che utilizzo per attuare la mia tattica contro i boss alieni. C'è doppio cecchino che colpisce fuori dalla portata del boss. Ok, mettiamo i due tiratori scelti con i compagni di legame tattico, quindi Sandman e Attila. Poi ci portiamo due granadiere, quindi tornano in azione dopo un po' di tempo, Spampy Mix e Maca. Prendiamo disponibile tutto l'equipaggiamento. Ok, partiamo, io partirei dal nostro Shinigami che avrà l'onore di utilizzare per primo l'armatura serpente. Eccolo qua. Non ho idea della percentuale di nuovo materiale di questa armatura, né di quanto sia stato tagliato direttamente dalla vipera da taiga. Allora, piccola botta di personalizzazione. Togliamo la maschera perché è veramente troppo, anche per me. Ok. No, no, no. No, no. No, no. Va bene. Andiamo invece per la dotazione. Allora, a lui daremo un proiettivo di schermo. Perfetto, va bene invece Venom, fucile pompato, pistola nell'ombra e proiettili dragon, per danneggiare e, diciamo, limitare le capacità operative del boss. Ok, lui a posto, Davide, ok, andiamo agli lascia ai proietti di Talon. Ok, non ricordo cosa abbiamo, una cassa superiore, ok, ah, cassa superiore, la useremo per potenziare una delle armi, ok, ok, potenziamo quest'arma con la cassa superiore. Quindi da 2 punti di danno, in caso di mancato bersaglio, passiamo a 4, che non è proprio per niente poco, 4 punti, mancando un bersaglio, veramente tantissima roba. Quindi andiamo a rinominare l'arma, ok. Ok, va bene, cambiamo il colore, poi con l'oro io vorrei, fondamentalmente, visto che abbiamo tre granate, portiamo delle cose più specifiche, portiamo la bomba glaciale con Maka, e la flashbang invece con, con spanto. Il meditore è a posto, lui è a posto, lui è a posto. Ok, possiamo andare. Ok, possiamo andare. Skyranger, partito. Via libera allo svarco. Via libera allo svarco. ... ... Missione bella tosta anche questa. Missione chiave, per tutta una serie di motivi, chiudiamo il discorso in modo definitivo con i boss alieni, soprattutto togliamo tre blocchi dal contatore del progetto Avatar. Vi ricordo a chi non c'era che siamo già arrivati al countdown, quindi era già scattato il countdown finale, e ho riuscito a scongiurarli un po' alla fine, ok, pronti? Mena sono cinque, coordinate confermate, raggiungete la posizione indicata e piazzate le cariche di X4, bene, squadra occultata, partiamo ovviamente con Sandman, allora la base è qui, dobbiamo stare molto attenti a spottare il boss, grande Franco bentornato, si è arrivato al momento giusto, allora rischiamo un attimo, forziamo un po' la mano con questo rush, wow, allora aspetta un attimo, che cosa abbiamo qua, Andromedon, Mech, Soldato e Torretta, wow, allora facciamo una cosa, maga può arrivare fino a qui, per Pampi, vediamo invece i cecchini, dunque con Shinigami, ora con la dura serpente, c'è un bel rampino, che gli facciamo rilevare immediatamente, lo mettiamo molto dietro, direi, wow, bello, 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 bello al prossimo turno, cioè se ci scoprono comunque ingaggiamo la posizione più o meno accettabile, portiamo gli uomini sopra, ok Spampi non arriva a salire se non lì, aspetta però è importante questa cosa, perché Davide dove arriva? Davide comunque arriva qui, allora mettiamo Davide sotto, qua, con Spampi saliamo, e Venom lo portiamo dietro insieme nella zona di... o lo portiamo qua, ma portiamolo qua dietro, ok, vediamo che succede, mi sa che attacchiamo su questo, speriamo che lo spottino, cazzo, cazzo, non è che tanto vale, dobbiamo uscire non è che tanto vale, porca puttana, no, dovremo concedere qualche giorno ai nostri uomini per guarire, sia mentalmente che fisicamente, ok, mi titolo è andato, porca puttana, quella è in guardia... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hit the armor! Get it together! Oh, che c***o! Granata! Ehm... ... ... ... ... ... ... Questa è proprio una cosa che non doveva succedere. Ehm... ... ... ... ... ... ... ... Oh Dio! Ok, Davide non può salire. Cazzo, ma che stronzata. D'accordo. Qua c'è quel cazzo di... Che qua non mi viene. Vado in posizione di tiro. Posizione confermata. Madonna, che botta ragazzi. C'è il mio tirore così. Il problema sarà... Il problema sarà con... Non ci credo. Il problema sarà con il boss. E' l'obiettino. E' l'obiettino. E' l'obiettino. Ok, c'è il mio tiratore. C'è il mio tiratore. Ok. L'obiettino. Ok. Ok. Cosa ti aspettavi? Allora andiamo a spottare sta cazzo di raffaetta E se lo dici tu? Buono 5 in numbers Arrivo E diamoci una mossa Problemi Problemi Non vedo il cazzo di cosa ma com'è possibile? Come faccio a non vedere il Mac? Speriamo che duri... Speriamo che duri... Con il congelamento avevo un altro turno Consegna speciale! Ne volete ancora? Speriamo che duri... 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 Alla Problemi, 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 allora occoltiamo l'alice, porca malattia, dobbiamo andare a scuovare questo cazzo di boss, altra torretta, 73 con il venti di critico, no, non si può, ma no, 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 c'è ma anche una laca, no, 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 no.... Hehehe ... Allora, spampi, spampi, l'abbiamo attaccato Sono stufo di aspettare Ne volete ancora? Mi farebbero comodo delle munizioni Ci vado subito Questa variazione dell'Arcon deve essere il soggetto degli esperimenti della dottoressa Varen Ok, adesso lo devo tenere, spampato Qua non lo vedo più, dov'è? No, ok Qua non lo vedo Qua non lo so Andiamo verso di qua, comodo, eh? La scaletta dov'è? Sì, sì Il problema è adesso tenerlo spottato per i cecchini senza... Senza farci vedere Ok E da qua non lo vedo? Non lo vedo perché Davide non lo vede? Eh, no Ma Davide non lo vedo ma c'è un cesso di albero Ok Problemi, problemi, problemi Qua non lo vedo Qua non lo vedo sempre per lo stesso motivo Qua potrei vederlo ma rischio di farmi beccare Vabbè Ricevuta, mi muovo Vabbè Ricevuta, mi muovo Brutta storia La rattina sali qua Vediamo se ci sono altre stronzate Ordini ricevuto Beh il brutto anche della sfiga perché Valle a sapere che quelli sono la e poi salgono Cazzo lo vado a vedere sto bastard C'è quell'albero che rompe il cazzo Fino a qua non ci vede E' ora di uccidere Che cazzo fa? Monto la guardia Qua lo vedo Qua lo mettoci qua Guardo Arrivo D'accordo Overwatch Ma tu guarda quel cazzo di albero Lui non si muove Ho capito Vabbè Giochiamoci la bomba Giochiamoci la bomba Sulla corazza È l'occasione che aspettavamo Uccidete quella cosa prima che riesca a scappare La coda Giochiamoci la bomba Spacchiamogli sto cazzo di armatura Prendi qua Prendi qua Bersaglio corazzato danni minimi Fincera estensione a me è molto limitato Prendi qua Prendi qua Prendi qua Prendi qua Prendi qua Beccalo Che cazzo Non ci posso creare ma che cazzo Prendi qua 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 RIPALZATO SULA CORAZZA Niente se si... se gli finisce in fiamma è la fine On my way Sono in allesta Fatevi sotto Non sono più a secco Fatevi sotto Cento per cento Ottimo Se sbaglio sto val... Ottimo 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 Deviato Ottimo Ottimo Sì Incredibile Se riesco a mantenerlo in fiamme me lo faccio però alla lunga Non lo so Eh mancherà una quarantina Trentina Trentacinque Buono critico Ci siamo quasi Mi tengo pronto Forse con un paio e tre colpi me la faccio Bello il critico Perché poi non gli ho tolto la corazza Allora sta botta dovevi averlo fatto Se non succedono cazzate Ma porca puttava Minha quattro Di danno Amore Di bastardo Cazzo Stiamo tenendo i puntetti Valen li ha rinforzati un po' Ma non ha bastanza Adesso Ottimo lavoro gente Dovemmo? Non vedo l'ora di esaminare il soggetto Non appena arriverà al laboratorio Tanto vale sfruttare gli esperimenti della dottoressa Valen Visto che non ho intenzione di replicarli Comandante quello era l'ultimo di quegli Esperimenti falliti Abbiamo tre capi degli alieni in meno Se non altro Sappiamo che la dottoressa Valen è là fuori Da qualche parte E abbiamo recuperato delle nuove attrezzature Non male a conti fatti Io volevo recuperare E forse poi è squagliato Non c'è più Sandman Sandman è sciolto dall'acido pure lui Niente non li recupero più vabbè Allora Andiamo Porca puttana Pottava Pottava posizione confermata nemico avvistato porca di una puttana c'è il sectore là wow wow ah c'è una porta ragiongo la posizione è là sotto si stia oggi per bene madonna che macello ok ok carica spampi è messo malissimo forte e chiaro è messo malissimo ok e sei qua ci penso io ancora non ho incassato il colpo devo dire non ho incassato il colpo nonostante abbiamo abbattuto il boss lo stesso c'è qualche cazzo è messo malissimo è messo malissimo qualcosa sei mosso lì ok proviamo ad attivarli con spampi non abbiamo più bombe e non ci vedono perché c'è quel cazzo di cosa davanti è messo malissimo ok ok però è l'ultimo esplosivo che ho non lo posso sputtanare così e ora riesco a salire qua copertura non le ho mi muovo me ne sono cinque siete vicino alla posizione bersaglio ok non mi conviene andare sotto roger occhi aperti sure thing scanning andiamo ok 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 mettiamoci una mossa troppo ma come cazzo lo mani di quel colosso aia qua riesce male non ho mai sperato tanto che ha preso 2 di danno che cazzo sta succedendo aia aia si sta andando a spadare adesso la invece di spadare non credo di farcela aia santa armatura bene eh rage che cazzo sta andando a spadare aia 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 è aia Ok, ok. BOOM! BOOM! Avete visto? Ok. Così facciamo 100% ottenere. Così 100%. 12% ottenere. Posizione andare a 112% ottenere. 13. Rimbalzato sulla corazza! 9. Certo! Bello! I'm here! What are you? What are you? A factory? Fuma anche il terreno, cazzo. Sì, dall'inizio. E' tutta la partita, che è così. Infatti, ha rischiato un casino. Sì, è quando ha preso il colpo. Allora, vediamo dove ho girato. Allora, vediamo l'aricola. Vamo a permettere. Richiedo estrazione immediata! In movimento! Affirmative. Sono stufo di aspettare. Vado! Andiamo! Hacking it in! Me ne vado! Sono arrivati i loro amichetti! Sì! Perché non mi... Mena sono cinque! Attenzione! Stanno arrivando dei rinforzi nemici verso la vostra posizione! Perché non mi ha fatto evacuare Davide? Cazzo! Come no! Torno alla base! Eh sì! Era dentro, ma non lo volevo. Perché dentro non lo può tirare sull'elicottero? Mena sono cinque! È stato confermato! Detonazione cariche X4! Minchia! Abbiamo perso tre uomini nelle ultime due, tre missioni! Non è una buona media! Troppo spregiudicata! Che poi ho sto fatto che i personaggi sono ispirati ai miei... Amici! Sì, era difficile... È stata... Cioè, era difficile... Affidandosi ai propri metodi arcaici e violenti... Gli XCOM dimostrano che preferirebbero vedere il mondo bruciare... Piuttosto che accettare la pace... Siamo grati agli anziani... Per il loro impegno nella lotta alla minaccia... Che incombe sulla nostra unificazione... Allora, la missione era difficile... Poi... Io ho fatto una cosa azzardata... Portando Sandman... Alla scena... Senza sapere... Come era... Anche la configurazione della mappa... E ho avuto la sfiga... Perché Sandman... Lo becchi solo se gli sbatti addosso... Cioè, anche che sei a una casella... Fino a una casella di distanza... Lui resta occultato... Invece... Io l'ho portato avanti... Giusto giusto... Era... Attaccato alla scaletta... E il... E l'Andromedon è salito dalla scaletta... Cioè, se fosse stato una casella... Staccato dalla scaletta... Sarebbe rimasto... Occultato... Non succedeva un cazzo... Probabilmente gli facevamo subito il culo all'Andromedon... E invece da lì proprio è stata l'escalation... Un po' come è successo... Quando è morto... Dottor Sabre... E la cazzava... Spostandoli muori... E schiava... Preferiamo morire in battaglia... Che spegnerci nell'oscurità... E' un rimpianto, comandante... E' un rimpianto... E' un rimpianto... E' un rimpianto... Mammo mia... L'ho fatta stare su... E' un rimpianto... Un rimpianto... Se fa bene al morale... Direi che allora... Ne vale la pena... Brutta, brutta, brutta Spampi 12 giorni e Davide 4 giorni Ora che abbiamo recuperato uno dei soggetti geneticamente modificati della dottoressa Valen dovremmo iniziare al più presto l'autopsia seguendo i suoi appunti spero che capiremo le finalità dei suoi studi poi Davide ha preso due colpi, non uno cioè se l'è uscito perché quella armatura del Berserker è impressionante ma ha impattato due colpi e alla fine se l'è uscito con 4 giorni di infermeria Porca di una putta Oddio Allora abbiamo un nuovo legame Tutoreggio per cui purtroppo ce n'è una sola Valedizione Va bene Poi E adesso io volevo andare a fare lo stregone subito Ma ciò mori stanco quindi un giorno deve passare Maga è morto, spampi ferito Quindi devo aspettare Madonna Che casino Con il rischio Che becco pure l'assassina Allora intanto facciamo la tuta con il minchia si chiama Dov'è Ah devo fare l'autopsia Vediamo Sono molto impegnato con la ricerca prioritaria Eh ragazzo Allora intanto facciamo la tuta con il minchia si chiama